Ero curioso di vedere questa partita stasera dopo la partita che avevamo giocato in casa. Devo dire che il primo tempo non l'abbiamo fatto tanto bene. Devo fare i complimenti alla squadra del Pirin perché ci ha messo in difficoltà, sicuramente ha giocato meglio di noi. Secondo tempo siamo stati più aggressivi, più intensi e penso che nell'arco della partita abbiamo meritato, fermo restando che io sono arrivato solo da dieci giorni e c'è tanto da lavorare ancora. E che ci sono stati più aggressivi, perché sono stati più attenti a 10 giorni, e questo è un'ottima. Provi, colorevo. Ma poco è entrato la partita e la partita è la partita di Dio e la partita. La partita è entrata, è la partita di Dio e la partita. La partita è entrata, è la partita di Dio e la partita è la partita. Significa che quelli che fanno gol li devono mettere in panchina e valentare la regola. Siamo stati in difficoltà supramente quando hanno richiesto il cartellino rosso. La partita era già indirizzata al cartellino. La partita era già indirizzata al cartellino. Ha giocato come vuole lei? L'ho detto adesso, noi abbiamo tanto da lavorare. Il calcio che ho in mente è ancora molto lontano. Però sicuramente il fatto che in dieci giorni hai fatto due partite e le hai vinte ti dà... Il fatto che in 10 giorni ero qui e gli eravamo due partite e gli eravamo due partite. Ti dà molta fiducia, soprattutto per credere ai giocatori che io propongo. Lo che li mi auguro è che sono bello. Di voi... Ma va perdere? No? Direi? Di voi si salga e gli addirittura di imparare. Cosa si rende insieme da leschi? Da voi e da leschi si vuole sempre vincere. Hai qualche... How'imbarazzo per quello? No. Anche perché l'ho scelto questo mestiere. Chi è? Chi è che fa il mio mestiere? Il fine ultimo è vincere. Però per vincere devo cercare che la squadra esprima un buon calcio. E se esprime un buon calcio ho più possibilità di vincere. A presto, i giochi bene, la squadra sono più quali.